bella a tutti raga bentornati qui per il nostro nono giorno di blog questa è solo l'apertura prima di lasciar bella sigla una piccola anticipazione nel video vedrete sia la serata in pizzeria di ieri che la serata in pizzeria di stasera con altre altre scene è arrivata la gopro quindi alcune scene saranno state girate la gopro la lection cam alcune scene le ho girate con quella pertanto io ora vi lascio alla sigla e poi mano a mano nel nel video registro degli altri spezzoni ora che presenteranno quelle che sono poi le varie serate pertanto godetevi la nostra fantastica sigla e ci si vede tra pochissimo e rieccoci bentornati innanzitutto scusatemi per la voce ma sono raffreddatissimo influenzato probabilmente ho la febbre e allora partiamo subito intanto la giornata è andata così oggi io praticamente a parte se mi è alzato tardi perché ho finito di montare il video di ieri alle 5 ho passato la giornata tra il commercialista e tra altri piccoli impegnucci che ho dovuto sbrigare per reggio calabria e poi stasera siamo andati a cena fuori abbiamo fatto una piccola riunione poi siamo andati a cena fuori con i ragazzi della polisportiva andromeda che è la squadra e l'associazione sportiva di bimbi speciali dove io facevo volontariato oggi abbiamo fatto solo una riunione tra tecnici e c'ero io che ero un ex tecnico e poi la pizza quindi intanto io vi bilancio le immagini però della pizzata di ieri con gli amici dell'avis c'è anche un piccolo video a presentazione che abbiamo girato in macchina dopo di che torneremo e vi spiegherò quello che è stato oggi quello che ho fatto oggi vi presenterò i video di oggi pertanto vi lascio alle parole di ieri ci si vede fra pesci ciao ragazzi buonasera vi saluta valerio in condizioni di luce precaria sempre col telefono ma domani parola che arrivo alla videocamera la videocamera la gopro stiamo andando in pizzeria mi hanno spento la luce me l'hanno riaccesa non so se riuscirò a fare dei video alla pizzeria ora vediamo se non è caso metteremo queste poi mi metterò qualche cosa domani in ogni caso io vi dirò un metro di pizza questo qua è per dare inizio cioè solo per passere no è perché dalla prossima volta vorrei iniziare la sfida man verso sunti e bisunti oggi non lo farò ma in un prossimo video ci metteremo qualche cosa io ora vi saluto anche che ci cercano l'altro telefono ci vediamo dopo i shiii out ciao ragazzi siamo al locale la pizzeria io penso che mangerò l'antipasto al buffet la pizza qua è a metro un metro di un metro di pizza e un litro di piega ora tra due minuti vi faccio vedere il buffet di che cosa costa il buffet guardate i compagni di merende non sei in diretta tranquillo puoi andare su youtube ora vi lascio poi vi faccio una ripresa del buffet che vale davvero la pena a dopo ragazzi ciao 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 c bene raga rieccoci io sempre più morto come avrete potuto notare praticamente in questi due giorni l'amica abbia fatto parecchio si è mangiato tantissimo due serie di 6 video pizza tra l'altro è la stessa pizzeria e con un buffet infinito ci cercano sempre nei momenti più strani non fa sicuramente benissimo alla mia linea io a questo punto anche se sicuramente non era uno dei miei migliori vlog però vi lascerei perché sono veramente distrutto questi sono stati i miei due giorni mi sono trascinato con questa influenza tra una pizzeria e l'altra un impegno e l'altro per Reggio Calabria ci avviciniamo al giorno della ripartenza per rientrare in Toscana e lo sento onestamente lo sento anche se non vedo l'ora di tornare nella mia casa toscana io ora vi lascerei alla sigla e ci si rivede domani per un nuovo giorno di vlog grazie a tutti buonanotte visto che sono le due di notte buongiorno a chi vedrà questo video di giorno e shiautsu buonanotte io con pistola non sono riuscito nemmeno a pigliare bene questo pezzo di calma com'è com'è ma ninnaia ho mancato il colpo o